Salute a tutti, bentrovati a B-Wine, la Puglia Alvinitaly 2015. Certo è protagonista la regione, ma i veri protagonisti qui a Verona sono i nostri produttori straordinari. Fra tutti abbiamo colui che da sempre riesce a sdoganare il vino pugliese, il presidente del cantiere Due Palme, Angelo Maci. Lei ha tantissimi segreti che non racconta su come è capace di far conoscere il suo vino ormai in tutto il mondo. Ce ne dica il menù, oltre alla qualità, che lo sappiamo, oltre all'acqua calda. Il grande prodotto, l'eccellenza, la produciamo in campagna stando e facendo attenzione ad una qualità che nasce nella campagna. Quindi stiamo attenti a quelli che sono i principi basilari per una buona cultura, per una buona pulizia nel terreno e degli interventi soprattutto a livello fitosanitari a stare molto attenti per la salute umana. Quindi il grande prodotto lo produciamo prima in campagna e poi in cantina con la grande tecnologia, innovazione e quant'altro. Ma poter bere bene ogni giorno è possibile, sì, perché ormai il costo bottiglia non è così alto per alcuni tipi di vino. Si può bere ogni giorno, tanto un bicchiere, si può bere a pranzo e una cena, secondo quelli che sono i dettami della dieta mediterranea. Val la pena bere bene ogni giorno? Certamente sì, bisogna bere poco, ma bene, un buon bicchiere di vino, tra l'altro i grandi medici lo consigliano per le proprietà che ha, come soprattutto per il sveratrolo, il vino potrebbe essere venduto in farmacia, Antonio. Presidente, noi la salutiamo prima, però vediamo qui tantissimi consumatori, tantissimi assaggiatori. Ce ne fa assaggiare uno, quello che lei preferisce? Allora, di noi faccio sentire uno in anteprima, il cui lancio sarà i primi di giugno, si chiama Selva Bianca, è un fermentino in purezza, è stata una scommessa, vinta da me. Ti posso dire che grandi sono melecchi e lo hanno già sentito il mio consulente, Riccardo Cotarella, lo ha definito un vino grandioso, straordinario. Sono curiosissimo, Presidente, coraggio. E questo è in anteprima. Sono quasi emozionato. E poi in bocca è lunghissimo. Questi aromi, queste fragranze, te li darai per dieci minuti, minimo. Anche più di dieci minuti, Presidente, perché sotto il suo naso io gli frego la bottiglia. Grazie al Presidente Maci.